E' dal 1861, dall'anno in cui fu fatto lo Stato Unitario, che Napoli, l'ex capitale del Regno delle Due Sicilie, è vittima di un fortissimo pregiudizio, come se fosse una città del demonio, popolata da lazari e scamiciati che ne fanno di tutti i colori, ogni volta che c'è una disgrazia i ritardi, delle cose ammissibili che Napoli condivide con altre città e che spesso capitano anche in città del centro o dell'Italia del nord, queste cose diventano un flagello per Napoli.